buongiorno signori sono l'uomo di casa oggi parliamo di tester o di multimetro ma di un multimetro particolare come vedete nel titolo io ho scritto per negati perché perché io mi considero negato finché parliamo in di reti cablate ethernet rj45 networking lì qualcosina so ma quando cambiamo argomento incominciamo a parlare di ampere omm oi mamma vado completamente in crisi per cui ho dovuto veramente fare delle ricerche molto profonde per trovare un multimetro che non mi mettesse in difficoltà solo a guardarlo con quel quel cerchio in cui bisogna spostare la lancetta che non si capisce mai e finalmente l'ho trovato ht 112 b multimetro digitale completamente automatico non bisogna fare niente lo accendi e fa tutto lui non ci credete e se non ci vedete vi conviene guardare il video fino alla fine in cui vi mostrerò tre o quattro utilizzi per gli uomini di casa quindi utilizzi normali in cui questo multimetro può esserci veramente utile detto questo non voglio tediarvi oltre per cui pollice in su iscrivetevi al canale condividete questo video con i vostri amici e buona visione a tutti bene signori dicevamo ht 112 b veramente spettacolo ma a che cosa può esserci utile beh non so se vi è mai capitato di trovare una batteria per casa e di chiedervi se è carica oppure no a me molte volte ecco il multimetro ci serve proprio a questo questo è uno degli utilizzi forse il principale per cui lo utilizzeremo noi uomini e donne di casa come vi sto facendo vedere io questa batteria da 9 volt mi chiedo è scarica basta mettere i connettori nel polo positivo nel polo negativo mi raccomando in questo caso mettete li giusti il rosso è positivo il nero è negativo e automaticamente il nostro multimetro ci dirà qual è il voltaggio come sappiamo se il voltaggio è della metà rispetto al voltaggio nominale della batteria o addirittura inferiore vuol dire che la batteria è completamente scarica più si avvicina al voltaggio nominale e più la batteria è carica un altro utilizzo legato a questo che si può fare è quello di testare la batteria della macchina ah non so se a voi è mai capitato di accendere la macchina e di cominciare a pensare ma non è che la batteria scarica è un periodo che si accende un po così ecco questo è una cosa che possiamo fare con il tester ma che lasciamo in un video a parte un'altra cosa che possiamo fare è vedere se all'interno della nostra presa elettrica di casa esiste la corrente si vi sto facendo vedere lascio sempre tutto in automatico e non tocco mai niente mettiamo i connettori dentro la presa di corrente in questo caso completamente a caso perché sappiamo che si tratta di corrente alternata e tac lui ci dice 230 volt perché in questa presa io sapevo benissimo che c'era corrente un'altra opzione ecco che può esserci utile che però in questo caso dobbiamo andare un attimino a manipolare sono dovuto andare a cercare nel libretto delle istruzioni perché la trovo veramente uno spettacolo è quella di capire senza contatto se c'è corrente o no in un certo dispositivo in una certa presa se noi andiamo a modificare con il tasto smart la funzione andiamo in fondo nell'ultima opzione del nostro multimetro e avviciniamo alla a questa ciabatta che vedete il nostro multimetro ecco che suona e ci dice che all'interno c'è corrente e questo può esserci veramente utile anche quando cambiamo casa quando ci troviamo in un ambiente che conosciamo veramente uno spettacolo che dire beh io stavo cercando un multimetro per incominciare muovere i primi passi in questo ambiente capire come funziona questo è proprio quello che fa a caso mio perché le tre funzioni principali vengono gestite completamente in automatico e così ci permette di utilizzare con soddisfazione il nostro multimetro e poi piano piano imparare tutte le altre funzioni detto questo io spero che questo video vi sia piaciuto spero soprattutto che vi sia stato utile tutti i link li trovate nella descrizione così potete andarvelo a vedere di persona tra l'altro il costo è veramente irrisorio cadiamo tranquillamente sul morbido detto questo pollice in su iscrivetevi al canale condividete questo video con i vostri amici e ci vediamo al prossimo video